Calia, l'era dei fondamenti, numero 3, l'unione necessaria. Wabalabadabdabe, bentornati su No Mamamazzo e bentornati nella rubrica fumetti, nella rubrica fantasy, nella rubrica Bugs Comics, anche se in realtà non c'è una rubrica Bugs Comics, ma mi occupo principalmente di Samuel Stern, quindi della parte edicola di Bugs Comics, dove di recente è approdata anche Calia, questo fantasy appunto targato Bugs che oggi è al suo terzo numero. Come dicono gli autori stessi all'interno della loro prefazione, dopo il preambolo iniziale dei primi due numeri che è servito a presentare un pochino il mondo di Theia, questo è il nome del mondo in cui si svolgono le vicende e i protagonisti, adesso entriamo nel vivo dell'azione e devo dire che anche io in questo numero mi sono sentito molto più coinvolto, forse perché mi sono un po' buttato alle spalle quella paura di dover entrare in un mondo così enorme che mi potrebbe sovrastare, potrebbe spaventare, perché comunque non è un fumetto facile un fantasy, quello in cui addentrarsi, quindi tutta cotanta magnificenza narrativa può appunto spaventare, io sono rimasto un po' spaventato i primi due numeri, non è un segreto, non ne ho fatto segreto nei miei primi due video, devo dire che questo numero mi sono rilassato e mi sono davvero goduto la cavalcata, come disse Cicciolina, mi sono davvero goduto il viaggio e ho trovato anche delle analogie interessanti, come sapete io trovo sempre delle sovraletture, delle mie visioni personali, quando le trovo mi piace condividerle con voi, quindi oggi ne parlerò un pochino anche con voi per darvi un altro spunto anche su questo terzo numero. Prima di cominciare se ancora non l'avete fatto vi chiedo di iscrivervi al mio canale, di mettere un bel mi piace o non mi piace a questo video e anche a tutti gli altri che vi frega, di condividere il video con tutte le persone che sanno cos'è una viverna e di commentare qui sotto con quello che venne parso di questo video e di questo numero, anzi in ordine inverso, comunque di questo numero e anche di questo video se volete, e scrivetemi, non so, il vostro personaggio preferito, non so se ne avevamo mai parlato, scrivetemelo qua sotto nei commenti, vi ricordo anche di seguirmi sugli altri miei social, tra cui Instagram, Twitch e TikTok, dove penso che farò un TikTok in cui spiego la differenza tra un drago e una viverna. Dove eravamo rimasti? Che nel numero precedente, nel finale del numero precedente, i nostri quattro protagonisti si sono divisi in due perché ancora non sono amici, cioè noi sappiamo che sono i protagonisti, ma loro non lo sanno. E quindi si sono divisi, abbiamo Kalia e Tagga che sono scappati con questo manufatto, con questo Alkest, per andare nella città di Hobur, mentre la nostra alchimista Lena e la sua guardia del corpo, Aridan, erano intenzionati ad andare a Galdor con l'Alkest, ma chiaramente Kalia se l'è portato via, quindi stanno inseguendo Kalia per riprenderselo. E in questo episodio appunto vedremo cosa farà unire le loro forze. Nel frattempo, sempre nello scorso episodio, abbiamo assistito alla morte di un elfo e anche alla cattiveria del suo capo, del suo re, adesso non ricordo bene la gerarchia comunque di chi sta sopra di lui, di questo elfo Varnon, Varnon, Vernon delle tartarugne ninja, non lo so. Che tra l'altro ha anche l'abilità, o meglio è un alchimista anche lui come Lena, quindi con i suoi composti alchemici, è in grado di manipolare il Morbo Pallido. Questo Morbo Pallido che fa un po' da padrone in questo mondo di Theia. Se vogliamo, il Morbo Pallido è un po' il main villain di questa serie. Tutti ne parlano, è sulla bocca di tutti, sta preoccupando l'intera popolazione mondiale del mondo di Theia perché sta contagiando tutti. E come abbiamo già visto anche nella vita reale purtroppo, nella nostra esperienza recente, quando c'è un problema che coinvolge tutto il mondo, c'è chi se ne vuole occupare in modo altruistico, in modo da guarire tutta la popolazione, c'è chi invece magari ne vuole trarre profitto, guarire magari prima la propria stirpe, la propria razza, la propria specie, e poi, vabbè, gli altri chi se ne frega. Ci sono per ora queste due posizioni, vediamo la posizione dell'elfo Varnon che appunto vuole occuparsi solo della razza elfica, vediamo la posizione di Galdor, della città di Galdor, che fondamentalmente vuole curare tutta l'umanità, ma vuole anche averne il merito, quindi c'è, insomma, nessuno è proprio così pulito da dire no, io voglio farlo perché... no, chiunque vuole un attimino trarne profitto, se non un netto profitto che crei un divario tra la razza, per esempio, elfica e tutti gli altri che rischerebbero di morire, è comunque un profitto anche di gloria che appunto può mettere in un'ottima posizione la città di Galdor, il regno di Galdor, rispetto al resto della popolazione mondiale. Devo dire che per uno come me che ama l'alto fantasy, questa che è la tematica meno alto fantasy che esista, anzi è una tematica prettamente politica, prettamente, se vogliamo, anche di attualità, perché sappiamo a cosa sta richiamando nella nostra testa, paradossalmente è la parte, il fil rouge che mi sta intrattenendo, mi sta interessando di più, forse proprio perché trovo dell'empatia, trovo dell'analogia con il mondo reale. Un'altra cosa che mi è piaciuta di questo numero è che appunto non si muovono dei grossi meccanismi, o meglio si muovono, ma noi non ci interessano, noi vediamo una piccola storia, la storia di questa città-ponte che ci viene presentata sin dalla cronistoria del continente, quindi già da qui si parla semplicemente di Stadbrek. Stadbrek, questa città-ponte, città commerciale, farà da padrona per tutto l'episodio, e diciamo questa micro storia in questo macro mondo è quello che appunto mi ha tolto dalle spalle il timore di addentrarmi in teia e non riuscire a gestire tutte queste nozioni, quindi grazie a questa piccola storia in questo più vasto mondo mi sono ritrovato molto meglio a fruire della qualità di questo fumetto. Mentre i nostri eroi appunto si ritrovano in questa cittadina di Stadbrek, l'avventura principale che poi andrò a narrare alla fine di questo video, l'altro elfo che abbiamo incontrato nello scorso numero, quindi non Varnon, ma Calon, che doveva essere morto nello scorso numero, scopriamo che è ancora vivo, è ancora vivo ma è terribilmente corroso dal morbo pallido, ed è forse per questo che nello scorso numero ci hanno mostrato il volto di Calon senza la tipica maschera elfica che tutti gli elfi indossano in questo mondo, proprio per farci vedere la differenza tra lo stato, lo stadio della sua malattia prima e dopo lo scontro nello scorso numero. Qua vediamo che ormai il morbo pallido ha preso completamente possesso delle sue carni, ma grazie appunto a dei composti di Varnon la coscienza di Calon è ancora attiva e sta provando appunto tutto il dolore possibile per questa transizione. Questa transizione che, come il libro di Teia stesso ci ha spiegato, ci hanno spiegato anche le prefazioni dei discorsi numeri, porterà alla creazione di un bozzolo da dove spunterà uno spettro, cioè fondamentalmente l'anima di Calon sbucherà da questo bocciolo, da questo bozzolo di morbo pallido e sarà uno spettro. Ora non so se in questa lunga saga ci saranno diversi spettri, se ce ne saranno molti, se ce ne saranno pochi. Qua abbiamo visto alla creazione di uno spettro ed è tra l'altro un personaggio che noi abbiamo conosciuto. Quindi chi lo sa che comunque non sarà un personaggio importante e che le sue doti da spettro non si possano rivelare utili ai fini della trama, magari ai fini dei nostri protagonisti. Chi lo sa? Sarebbe carino vedere un fantasmino nella squadra. Vediamo. Scopriamo anche che gli eredi di coloro che hanno perpetuato la grigia mattanza, questa epurazione razziale che c'è stata in passato verso la razza dei Jaldest, dopo che il re Jaldest tenne per anni col pugno di ferro un regno di terrore, quindi ve la traduco in modo umano, è come se, non lo so, Adolf Hitler fosse stato un cattivissimo re Jaldest, quindi è come se in questo caso la mattanza non fosse stata ad opera dei nazisti verso gli ebrei, ma è come se Adolf Hitler, che era appunto il nazista in questo caso, avesse perpetuato questo regno di terrore e che l'umanità di rimando dopo questa bruttissima esperienza abbia creato un, diciamo, uno squadrone che sterminasse tutti i tedeschi. Non lasciate perdere che Hitler era mezzo ebreo, austriaco, togliete tutte ste robe. Era per darvi un'idea. Quindi la grigia mattanza è come un'eccessiva risposta a un regno di terrore da parte di un solo Jaldest verso tutta la sua razza. E ci sono ancora questi squadroni della morte, anche se tra l'altro non sono più dominati da questo sentimento di vendetta e di paura, ma sono semplicemente dominati dal denaro. Quindi sono fondamentalmente alla stregua di mercenari che per soldi possono uccidere, rapire, commerciare i Jaldest. Ma passiamo appunto al macro argomento, alla battaglia principale di questo numero, che è la battaglia con la Viverna, che accade proprio nella cittadina di Stadbreak. Innanzitutto ci sono due grossi boss, due grossi nemici in questo numero. Uno è un troll, vediamo che Kali e Tag nella foresta incrociano, per sbaglio, un troll, e scappano nella cittadina di Stadbreak dal troll perché i troll in teoria non si addentrano nei centri abitati. Però questo lo fa. Questo lo fa, quindi il troll irrompe in una locanda, tra l'altro gestita da Jack Black, e Kali lo ammazza, lo ammazza in 30 secondi sul posto, diventando un po' l'eroina di Stadbreak. Quindi grazie a questa cosa si imbonisce un po' tutta la popolazione. Quindi il primo nemico è questo troll che porta, che è una scusante per portare Kali in città, ma mentre appunto sono in città, dove vengono poi raggiunti da Lena e Aridan, c'è un secondo nemico, un nemico che già Lena e Aridan avevano avvistato lungo il loro cammino, che è questa Viverna. Tra l'altro non è neanche una Viverna qualsiasi, ma è una Viverna anche lei appestata dal Morbo Pallido. Per questo dico, il Morbo Pallido fa da padrone in tutta questa saga. Scopriamo da come ne parla Lena, che pare normale che è una Viverna spruzzi acido e non fuoco. Questa è una cosa che credo sia propria del mondo di Theia, correggetemi se sbaglio. Però questa Viverna è anche appunto appestata dal Morbo Pallido, quindi è anche contagiosa e pericolosa in due modi. Quando finalmente, non vi dico come, riescono ad abbatterla, c'è tutto, diciamo, un argomento che tratta temi che a noi sono molto vicini, ovvero la contagiosità, la pericolosità di un contagio, la messa in quarantena di un'intera città, la messa in quarantena di una città che vive di commercio e che quindi morirebbe se venisse isolata dal resto del mondo, quindi anche il, come si dice, il conflitto tra privare una cittadina del commercio e di fatto metterla in ginocchio oppure lasciarla commerciale ma di fatto rischiare di sterminare tutta la cittadina e tutte le popolazioni che vanno a contatto con questa cittadina. Vi suona familiare? L'avete già sentito negli ultimi due anni? Sarà una sovralettura, ma secondo me la quarantena, il lockdown, la pandemia ha influito molto sulla creazione di questo fumetto, soprattutto sul mito del Morbo Pallido. Non so se anche Luca Lamberti e Leonardo Cantone l'hanno voluto inserire dopo l'esperienza della pandemia o comunque già era in porto ma l'hanno perfezionato in questo senso, ma devo dire che sicuramente questo fumetto risente dei tempi in cui ha vissuto, risente dei tempi in cui è stato ideato, in cui è stato creato e questo lo rende anche vicino a chi come me magari il fantasy a fumetti non lo mastica tantissimo. Per questo dico la parte più politica, più reale, più attuale, meno alto fantasy ma più basso fantasy, è quella che normalmente a me non piace meno, ma in questo caso è quella che ho sentito più vicino ed è per questo che promuovo a piene mani, si può promuovere a piene mani una cosa, non lo so, promuovo a piene mani questo terzo numero, questo terzo episodio e sono molto curioso di leggere il quarto. Devo dire che non ero così sicuro prima di leggerlo, sono onesto ma alla fine mi ha convinto. Fatemi sapere voi cosa ne pensate di questo numero, fatemi sapere qual è la parte che vi piace di più, se volete fare spoiler magari lasciate sempre un po' di spazi prima di commentare e vi lascio con questo dubbio, sapete la differenza tra un drago e una viverna? Se la sapete scrivetela qua sotto, se non la sapete vi metto il link in descrizione del mio canale TikTok dove troverete la spiegazione. Non ve la dico qua perché so stronzo e perché ormai è passato già troppo tempo e non voglio tediarvi ulteriormente. Io vi ringrazio per avermi seguito fino alla fine del video e con l'inchino e con l'imbuto vi saluto e vi dico arrivederci al prossimo video.